Stiamo festeggiando il primo raduno del Sostizio, un raduno che comprende un po' tutte le nostre barche d'Italia, soprattutto in Lombardia, Lago di Iseo, a Lovere, Lago Maggiore, Angera. A Piemonte c'è stata una selezione di equipaggio del campionato del Golfo di La Spezia, nel Lazio, sul Lago di Bracciano c'è stato un Open Day con una veleggiata, in Campania si svolge a Salerno una veleggiata con un convegno sulla vela e sulla salute, in Sicilia a Catania un Open Day, Sardegna, Isolinas e Arbatax, raduno di Kitesurf. Noi qui invece ci troviamo nella splendida Venezia. Siamo qui nello splendido scenario di Marina Sant'Elena che ci ospita per questa manifestazione. L'idea di fare questa manifestazione è nata più o meno un anno fa, quando abbiamo deciso di aumentare la visibilità della vela, della vela Wisp e quindi avevamo bisogno di fare una manifestazione che fosse a livello nazionale e oggi finalmente dopo 7-8 mesi ci siamo riusciti, abbiamo coinvolto 10 società in giro per l'Italia per cui contemporaneamente fra oggi e domani ci saranno 10 punti in Italia che faranno vela, vela della Wisp e quindi questo era lo scopo, pubblicizzare la vela e farci vedere che siamo ancora qua.